Buongiorno a lei, l'autore era il nostro grande gruppo e lei faceva parte del consiglio del quadro magistico quindi volevo ringraziare ancora per tutto quello che abbiamo fatto all'interno del quadro magistico e quando ringraziare allo stesso punto la prologa mi ha chiesto se volevamo partecipare a questo evento così importante è stata una grande messa nel senso dato che poi mi hanno chiesto di allargare non solo per partecipare ma per partecipare tutte le associazioni che secondo me all'interno che ci sono parecchi e tanti lavorano bene per il paese ed era anche un punto di ringraziamento di ringraziare la prologa, poi era dire due parole sul programma di questa sera le musiche che sentiremo e anche quelle che vanno in più con il coro sono un diritto un po' particolare se si piena se soltanto ora sono partecipando a fare una guerra così è un modo per far recepire ai giovani quanto le persone addirittura hanno dato la vita per il paese durante la guerra e noi dobbiamo cercare di dare e far capire ai ragazzi che è una guerra mentre non farla più però attraverso queste associazioni dare un contributo umano per portare avanti la solidarietà in tutti i suoi campi e il bisogno che c'è proprio per dare la mano a chi ne ha bisogno questo non è Paolo stesso solo, non è veramente grande che ha saputo dare tutto quello che aveva quindi grazie ancora, grazie a voi e buona continuazione serata